Continuiamo il nostro viaggio verso il trading consapevole in questa seconda stagione della serie dedicata all'operatività. Nel primo episodio abbiamo visto come allocare il capitale nei diversi asset nei quali vogliamo investire e soprattutto come scegliere quanto possiamo permetterci di investire. Oggi facciamo un passo in avanti, ogni puntata andremo a scavare sempre di più nel dettaglio e andiamo a vedere come impostare in maniera generica una strategia di investimento e di trading. Questo lo facciamo facendo un'analisi prima nostra interna e cercando di capire come possiamo permetterci di agire in base all'esperienza, alla presenza sul mercato, all'emotività e a tante altre cose di cui parleremo oggi. Quindi lo scopo di oggi è arrivare alla fine che sappiamo in che direzione andare. Dividerò l'esperienza e la capacità in diversi livelli per rendere il tutto più concreto e oltre alla scelta del livello iniziale vi mostrerò come progredire da un livello all'altro per non smettere mai di migliorarci e arrivare poi a comprendere e avere la capacità di utilizzare tutte le diverse tecniche disponibili per operare in maniera migliore possibile. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero che stiate apprezzando anche questa seconda stagione che non fatevi ingannare dal fatto che siamo partiti soft perché comunque ovviamente bisogna partire dalle basi. È molto molto orientata alla concretezza e vedrete che più andiamo avanti e più andremo a dettagliare ogni singolo aspetto. Vi consiglio per integrare bene questa serie di guardarvi anche quella sui setup perché qui spesso e volentieri citeremo i setup in quanto questa serie è dedicata all'operatività ma più su larga scala. Per poi avere il dettaglio delle singole posizioni vi consiglio appunto di guardare la serie sui setup dove vi dico come opero io in base a cosa vedo sul grafico. Detto questo se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti cortesemente lasciatemi un like anche a questo per motivarmi e spingere a continuare a produrre sempre di più contenuti e sempre più di qualità. Seguitemi qua su youtube cliccando iscriviti e la campanellina per non perdervi nemmeno un mio nuovo video e sugli altri canali social di cui trovate i link in descrizione. Adesso basta chiacchiere e andiamo a vedere come impostare una strategia di trading. Seguitemi. Dopo aver capito nel primo episodio come investire il proprio capitale quindi quanto capitale investire come allocarlo costruendo un portafoglio basato sui criteri di rischio adesso cerchiamo di impostare una strategia di investimento per ognuno di questi asset. Vi ricordo che tutte le nozioni strategie tecniche che vediamo e setup che vediamo in questi episodi non sono circoscritti al solo bitcoin o alle sole cripto ma sono applicabili al trading e all'investimento in generale. Quindi oggi facciamo un passettino più avanti andiamo un po' più nel dettaglio andando a vedere come definire per l'appunto una strategia ed un'operatività sul proprio portafoglio. Chiaramente il tutto è basato sull'esperienza perché se uno non ha esperienza che sia di trading di investimento di mercati di uno specifico mercato che può essere quello azionario quello di bitcoin insomma va conosciuto prima di approcciarlo la prima cosa da fare è proprio fare esperienza studiare conoscere i mercati e gli asset quindi mercato e asset sono appunto le basi assolute da avere prima di operare. In seguito ovviamente bisogna conoscere le piattaforme sulle quali operare ovvero gli exchange, i broker insomma tutte quelle piattaforme sulle quali si può acquistare, vendere oppure operare su questi asset che stiamo tenendo sotto controllo. Questi punti vi ricordo non li svilupperemo in questi episodi perché esulano dal loro scopo però se voi vi andate a vedere un po' dei miei video ecco diciamo che tutto lo scopo del mio canale posso dire è farvi conoscere il mercato e gli asset criptovalutati. Saper gestire l'asset tra l'acquisto e la vendita questo è un altro punto molto molto particolare e delicato perché oltre all'acquisto e la vendita occorre saper conservare l'asset. Qua mi rivolgo chiaramente in particolare alle criptovalute ma non solo perché ogni asset ha degli aspetti particolari come per alcuni metalli le questioni di custodia piuttosto che tutti quanti gli aspetti fiscali di ogni asset che acquistiamo e conserviamo. basati su quanto tempo lo conserviamo dove lo conserviamo cosa ce ne facciamo insomma tutti questi discorsi qui vanno approfonditi anch'essi con l'aiuto ovviamente magari di specialisti. infine l'ultimo requisito è quello che abbiamo imparato nell'episodio 1 ovvero conoscere il proprio capitale investibile e quello allocato quindi aver definito un piano un po' come appunto spiegato nell'episodio numero 1 sull'asset allocation. andiamo avanti ora quello che dobbiamo scegliere è che tipo di operatività adottare ovvero che strategia adottare quindi mi limito all'holding provo a fare un trading a maggior frequenza ecco anche qui bisogna fare un po' un esame a se stessi capire quanto quanta esperienza abbiamo nel trading in quanto il trading è un'operatività molto complicata che va imparata un po' alla volta va digerita è anche una scoperta di se stessi se vogliamo perché a parte gli scherzi l'emotività la psicologia gioca una parte preponderante è una cosa di cui non ci si rende conto finché non lo si fa e questo spesso offusca molto perché è un'aspettativa sempre maggiori della realtà sul trading quindi fidatevi affidatevi all'esperienza alla vostra esperienza e imparate un po' alla volta tra poco vi spiego anche come muovere i primi passi se non l'avete mai fatto quindi l'operatività deve dipendere da due cose esperienza quello che abbiamo appena detto e presenza sul mercato per quale motivo perché ovviamente se io ho delle giornate impegnatissime perché sono un dirigente di una multinazionale e lavoro 12 ore al giorno devo prendere tre aerei al giorno e cose di questo tipo ovviamente non avrò tutto questo tempo per seguire i mercati e quindi dovrò adottare una strategia compatibile col mio tempo con la mia vita e con quello che faccio al contrario se ho molto tempo libero se ho l'opportunità di guardare i grafici molto spesso posso permettermi di adottare una strategia che richieda per l'appunto una maggior presenza sul mercato terza cosa profilo emotivo ecco questo fantasma di noi stessi che scopriamo soltanto una volta che ci troviamo in difficoltà l'emotività è il nostro principale nemico nel trading per quale motivo? perché ovviamente se non abbiamo mai fatto trading non sappiamo neanche di cosa si sta parlando è una cosa che si scopre davvero durante il percorso e si tratta del palesarsi di alcune emozioni in particolare la paura l'avidità la foga di fare cose di fretta di voler tutto subito che quando poi ci troviamo faccia faccia con loro offuscano il nostro la nostra obiettività la nostra strategia ci danno quelli che si chiamano bias nonché ci fanno operare in maniera impulsiva emotiva e pertanto errata occorre imparare a conoscere il nostro profilo emotivo a conoscere quanto siamo possiamo cadere vittima di queste emozioni e quanto invece siamo in grado di gestirle e fino a che punto perché se siamo persone molto impulsive molto emotive non avrà senso fare trading ad alta frequenza perché non riusciremo a gestirlo dobbiamo essere realisti con noi stessi magari riusciremo con un po di esperienza con un po di tempo a domare un po alla volta sempre di più quelle emozioni ma fin tanto che non avremo dati oggettivi che ci permettono di dire che siamo meno vulnerabili a tali emozioni allora conviene non farle nemmeno uscire allo scoperto perché altrimenti si traducono in perdere soldi fidatevi che è così quindi il profilo emotivo si intende questo va scoperto bisogna capire quanto ci si può spingere in là quanto si riesce a gestire le proprie emozioni e imparare a farlo a sviluppare questo controllo poi nel tempo sempre di più questo chiaramente influenzerà la nostra operatività tempo a disposizione da dedicare al seguire analizzare i mercati operare è un po quello che abbiamo di cui abbiamo parlato prima nominandolo presenza quindi il tempo a disposizione da dedicare per l'appunto all'investimento e infine ovviamente la conoscenza degli strumenti derivati e speculativi che sono un passo oltre infatti l'ho messo ultimo nell'ordine di importanza perché non conoscerli non ci impedisce assolutamente di fare trading però ovviamente ci preclude alcune possibilità ci sono tantissimi strumenti derivati e speculativi che anche in questo caso oddio non è vero che non è scopo di questo di questa serie introdurveli perché poi parleremo di edging parleremo di alcune cose che includono gli strumenti speculativi e derivati però anche in questo caso se voi vi spulciate un po tra i miei video abbiamo tantissimo parlato di futures di opzioni di perpetual quindi trovate fidatevi tutto quello che cercate se li volete approfondire o anche imparare perché io parto sempre da zero quindi questo vi permette un'operatività ancora più aggressiva ancora più come si può dire inclusiva di altre variabili più strumenti si conoscono più si può combinarli tra loro per creare strategie più complesse e ovviamente avere maggiori possibilità in diverse situazioni ok quindi adesso cerchiamo di capire parlando di esperienza visto che secondo me molti che stanno guardando questo parlano partono da zero o poco più cosa significa fare esperienza come si fa fare esperienza allora io ho definito alcuni livelli chiamiamoli così di esperienza nel trading e delle operatività conseguenti questo è un banalissimo esempio che insomma è estremamente generico volutamente che sottolinea quattro tipologie di operatività in base all'esperienza che uno ha e ovviamente nel frattempo il consiglio che mi sento di dare è di studiare fare pratica imparare scoprire gli strumenti scoprire i mercati scoprire gli asset per riuscire a includere sempre più tipologie di operatività ma non perché è meglio fare trading ad alta frequenza con i derivati piuttosto che non farlo ma perché conoscere più più operatività differenti ci permette di adattarci meglio ai mercati e ovviamente la conoscenza sapete che è sempre uno strumento molto molto valido in particolare quando quando si tratta poi di guadagnarci qualcosa di applicarla sul mercato partendo da zero quindi per chi non ha nessun tipo di conoscenza del trading il consiglio spassionato è di evitare di fare trading perché altrimenti si fanno errori di incominciare a imparare tra poco vediamo come e nel frattempo di darsi per se si vuole comunque iniziare ad investire ad un semplice piano di accumulo ho dedicato un intero video a come strutturare un piano di accumulo e ve lo lascio qua linkato è quello che banalmente si chiama holding ma non holding alla cieca ovvero compro e basta me ne dimentico no un holding smart un holding furbo che preveda una strategia di entrata e una strategia di uscita attive quindi ovviamente l'attività richiesta la presenza richiesta saranno minime ma un minimo comunque ci vuole per seguire i risultati del proprio piano di accumulo nel tempo acquisto e vendite periodici senza seguire il mercato su asset nei quale si vede potenzialità e apprezzamento quindi se io vedo bitcoin che secondo me nei prossimi dieci anni varrà di più perché l'ho studiato lo conosco insomma devo avere i miei motivi chiaramente non perché l'ho sentito dire allora posso impostare un piano d'accumulo su bitcoin con la frazione di capitale allocata a bitcoin se reminiscenze dell'episodio 1 numero 2 livello 2 poca esperienza di trading operatività trend follower high time frame htf sta per high time frame high time frame significa di utilizzare un time frame elevato in particolare intendo settimanale o mensile perché un time frame elevato perché richiede una minor presenza e soprattutto ci sono meno fluttuazioni nel mercato e meno rumore nei grafici operatività trend follower perché in questo modo io mi baso su un trend quindi devo cercare di seguire le tendenze un po' la tipologia di trading più semplice che si può chiamare anche swing trading e tra poco la vediamo un po' più nel dettaglio maggiore esperienza di trading quindi un livello 3 ipotetico operatività mista high time frame più low time frame cosa significa? Significa di combinare un'operatività su due tipologie di time frames diverse quindi un'operatività trend follower come quella appena citata insieme a un'operatività invece basata su setup quindi su delle particolari impostazioni e anche sui setup ho fatto tantissimi video proprio per mostrarvi alcuni esempi miei dei miei setup che utilizzo e orientati questi alla price action quindi a vedere guardo il grafico identifico il setup apro una posizione di breve termine low time frame ok questi setup sono basati su un diciamo una tecnica di limitazione del rischio di calcolo del rendimento e vanno inseriti ovviamente in un trading system che poi tiene conto di tutto questo non preoccupatevi che nella prossima puntata ci concentriamo proprio su questo sulla costruzione di un trading system e la sua valutazione ultimo livello massimo livello di esperienza operatività mista quindi come sopra più hedge con i derivati quindi significa di operare in maniera mista low time frame più high time frame e di utilizzare gli strumenti derivati quindi le opzioni le leve i futures per riuscire a amplificare le proprie posizioni in certe situazioni oppure per coprire eventuali perdite per operare short se siamo in fase di ribasso e vogliamo guadagnare anche da questo insomma è tutta una apre tutta una una forbice di possibilità ancora più ampia non preoccupatevi perché vedremo tutto più nel dettaglio in un secondo ma prima parliamo un attimo ancora di esperienza perché abbiamo detto come facciamo a progredire in questa scala in questi quattro livelli studiando ok abbiamo capito quindi imparando cosa sono questi asset imparando come funziona il mercato come si muove osservando i grafici giorno dopo giorno ma non è sufficiente osservare passivamente perché la teoria da sola non ci dà nulla uno può leggere tutti i libri che vuole fare tutti i corsi che vuole guardare tutti i video che vuole sarà bravissimo in teoria potrà conoscere l'analisi tecnica a mena dito però se uno non ha un bagaglio pratico fidatevi che non sa ancora niente del trading il trading simulato aggiungo perché molti dicono eh sì ma io ho esperienza ho fatto un sacco di trades sulle test net sui conti demo eccetera eccetera anche quello purtroppo ha un'utilità estremamente limitata a mio parere perché perché purtroppo esclude completamente la parte emotiva i soldi non sono reali non sono miei e quindi non proverò mai le stesse sensazioni che proverò invece quando impegno e metto a rischio il mio capitale reale quindi mi raccomando non pensate che replicherete gli stessi risultati che avete in test anche nella realtà non sono minimamente comparabili sono due cose totalmente incorrelate quindi io credo che il trading simulato la test net e simili siano utili esclusivamente per imparare l'uso delle piattaforme quindi come mettere dentro gli ordini cosa come funzionano come insomma tutti le varie tutti gli smanettamenti con gli exchange con le piattaforme che avete paura di fare magari col capitale reale perché dite ma non so bene se l'ordine limit se lo metto qui mi va a finire in un certo modo eccetera eccetera ecco usate la test net lì potete buttare soldi in questa maniera provando 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 per vedere le fees tutti questi discorsi qua però una volta che volete imparare a fare trading serve capitale reale per includere anche la componente emotiva che fidatevi è quella che influisce di più in assoluto sui risultati c'è un abisso tra chi è bravo a fare analisi e chi è bravo a fare trading perché uno può essere bravissimo a fare ad analizzare i grafici a disegnare delle righe a vedere i trend eccetera eccetera ma quando si tratta di definire quando entrare con quanto capitale entrare quando uscire dove mettergli stop loss fidatevi che l'imbuto si accorcia tantissimo perché su 100 io non esagero secondo me 100 bravi analisti 5 sono bravi trader capitale basso ovviamente all'inizio per limitare le perdite perché l'inizio sarà in perdita questo bisogna metterselo in testa quando uno inizia inizia perdendo e quindi non cominciate subito a buttarvi con capitali alti magari perché vedete che i vostri primi trade vanno bene state state umili abbassate la testa provate 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 perché il trading all'inizio è quello che io chiamo trial and error game significa provare sbagliare capire dove si sbaglia modificare il tiro capire i propri limiti e cercare di inquadrare poi di conseguenza una strategia all'interno proprio di questi nostri limiti mentre magari con una piccola fettina di capitale cerchiamo di superarli studiando operatività più avanzate ok quindi spero di aver dato un'idea abbastanza chiara si prova partendo dalla base si inizia ad allocare una piccola percentuale di capitale a livello successivo più si fa esperienza e più si inizia ad incrementare quella percentuale di capitale allocata fino ad arrivare poi al proprio piano originale e nel frattempo magari si alloca un'altra piccolissima percentuale a livello ancora successivo ed è così ecco che si progredisce nella scala dell'esperienza del trading andiamo a vedere queste tipologie di operatività come si possono strutturare in maniera molto molto generica perché qua non stiamo parlando di setup stiamo parlando di strategie operatività di base ovvero piano d'accumulo ipotesi sottostante è l'apprezzamento dell'asset nel lungo periodo quindi io devo definire un entry una management strategy un exit strategy basate su che cosa sul minimo possibile perché un piano di accumulo non deve essere un qualcosa che mi impegna troppo tempo ingresso quindi è uscita basati soltanto su tempo performance e disponibilità quindi io entro ogni tot basato su tempo performance significa che vado a valutare come sta andando quell'asset e che aspettative ho da quell'asset in base alle mie analisi e disponibilità ovvero il mio capitale quello che è stato deciso in fase di scelta dell'allocazione management strategy devo ricalcolare periodicamente le quote di ingresso ed uscita un po' come vi dicevo nel video dedicato al piano d'accumulo ovvero ogni tot vado a rivalutare in base sempre ai conti che mi faccio in tasca in base alle performance di questo periodo in base a diversi fattori le quote di ingresso e di uscita l'ingresso abbiamo capito che cos'è l'uscita anch'essa basata su tempo performance e disponibilità quindi in base a questi tre fattori io ogni tot quello che io ho suggerito sempre nel video sul piano di accumulo è di avere un tempo di ingresso molto minore del tempo di uscita proprio per sfruttare l'ipotesi sottostante di uptrend sul lungo periodo comunque questo è un po' l'idea di piano di accumulo ovviamente non è un solo entrare e tenere lì ma è entrare in base a quello che inquadro gestire i miei ingressi cioè aumentare o diminuire la quota in base a come sta andando l'investimento in base a diversi fattori e infine decidere anche un'uscita periodica per capitalizzare sul mio piano d'accumulo e non rischiarlo poi nel caso in cui il trend si dovesse invertire un'operatività intermedia ovvero di swing trading invece consiste nel cavalcare per i trend di high time frame di medio periodo cosa significa? Significa che di default il capitale è in cash quindi neutro non investito l'operatività prevede un ingresso basato su setup oppure un trading system che analizza il trend cosa significa? Significa che devo andare a identificare delle condizioni tali per cui secondo me si sta innescando una tendenza che può essere un setup come ad esempio la rottura di una resistenza molto importante su un time frame settimanale che appunto mi aspetto genererà un trend oppure un trading system inteso come una configurazione di medie mobili massimi e minimi crescenti insomma tutto un insieme di condizioni che per me definisce un trend nato e con buona probabilità di sussistere ancora per un po' la management strategy mi valuta ovviamente in base a tutti i miei parametri della mia esposizione quanto rimanere dentro, quanto uscire, se fare dei take profit parziali e quant'altro quindi io devo sapere anche qui è una cosa da definire in fase di asset allocation quanto rimanere esposto in una certa strategia, quanto rimanere esposto in un certo asset e ovviamente se ci sono grossi guadagni io inizierò a capitalizzare proprio per tenere poi quella esposizione che ho pianificato all'inizio, quindi questo è un po' il discorso della management strategy l'exit strategy è quando si invalidano le condizioni di ingresso, ovvero il trend finisce piuttosto che il setup prevede lo stop, quindi l'uscita della posizione, la chiusura della posizione un'operatività più avanzata invece ha un trading a maggior frequenza con sempre capitale di default in cash è un'operatività mista sia su trend che su setup di breve basati sul rischio rendimento che significa? Significa che l'entry strategy si divide in due, diciamo in parte basata sul trend come prima, quindi vado ad individuare le tendenze e in parte basata invece su dei setup di breve basati quindi su un profilo di rischio rendimento cosa significa? Significa che vado a vedere quando il grafico mi suggerisce un certo setup vado a vedere quanto è il valore di rischio e quanto è il potenziale rendimento di quel setup e ovviamente è setup dipendente, non esiste una legge assoluta e in base poi allo storico della profittabilità di quel setup, se ce l'ho, se no inizio a popolarlo vado a decidere se entrare oppure no in questa posizione la management strategy sempre in base ai parametri dell'esposizione e delle posizioni quindi quanto mi sto esponendo su un certo asset e quanto ho previsto di allocare su di esso e l'exit strategy invece è o sull'invalidazione delle condizioni di ingresso oppure, ovviamente nel caso del trend come prima, se il trend finisce in sostanza oppure in caso di take profit o stop loss del setup low time frame scusate, avrò appunto ottenuto un gain oppure una perdita pari al risk to reward ratio piuttosto che al capitale rischiato se lo perdo questi sono i discorsi di risk management infine l'operatività più pro combina trading e hedging ovvero capitale di default in cash senza esposizione operatività mista su trend e rischio rendimento quindi posizioni di breve e includo posizioni di copertura quindi l'esposizione complessiva sarà data in parte dall'esposizione trend follower quindi di swing trading in parte dall'esposizione dei setup complementari ad essa e inoltre posso attenuarla oppure amplificarla ulteriormente con delle posizioni di copertura ovvero utilizzando prodotti derivati cosa significa? significa che per farvi un esempio banale se sono esposto trend follower long quindi ho acquistato bitcoin perché noto un trend di medio periodo e sul breve si presentano non lo so dei setup che minano possono minare anche se per ora solo sul breve quel trend facendo partire una fase sempre di breve di ribasso allora posso fare una copertura con uno short utilizzando ad esempio un future in questo modo riduco la mia esposizione complessiva e di conseguenza il rischio complessivo di questa fetta di portafoglio quindi l'entry è sempre come prima basato su trading system che individui trend setup e esposizione perché ovviamente l'edging, la copertura è finalizzata a modificare l'esposizione management strategy come prima e include ovviamente l'apertura di eventuali posizioni di copertura utilizzando quella che si definisce leva sintetica anche ovvero posizionando degli stop loss molto stretti a parità di capitale rischiato posso ottenere un effetto leva finto perché ovviamente il rischio rendimento sarà molto maggiore anche se incremento il rischio di posizione questi sono tutti i concetti che io do per scontati perché li abbiamo visti nella prima stagione quindi mi raccomando è imprescindibile anche conoscere questi infine l'exit strategy prevede l'uscita su invalidazione piuttosto che aver preso lo stop loss e il take profit piuttosto che il raggiungimento di un livello di esposizione che mi soddisfa allora magari inizio a chiudere le posizioni di copertura quindi se ad esempio il downtrend per tenere l'esempio di prima sul breve si rivela essere solo sul breve magari faccio il mio take profit di quello short di copertura e rimango esposto come prima con il solo sistema trend follower su high time frame quindi questa è un po' una panoramica ovviamente generica ma volutamente giusto per farvi capire possibili impostazioni di questi quattro livelli di strategia che vanno dal semplice piano di accumulo al più complicato trading ad alta frequenza con anche posizioni di copertura in derivati conclusioni che dire un'operatività più avanzata chiaramente da maggiori possibilità di profitto questo è scontato ma anche maggiori rischi perché anche questo è abbastanza scontato più posizioni si aprono e più c'è rischio di sbagliarle quindi di perdere quindi il consiglio è sempre che se uno ha poca esperienza di aprire meno posizioni possibile e attenersi il più possibile a lungo periodo quindi partendo dal piano di accumulo approcciare gradualmente le difficoltà superiori e fare l'upgrade soltanto una volta certi dei risultati su un tempo sufficiente mi raccomando è importante prima di saltare a livello successivo non dire ma se ho beccato 10 trade 20 trade allora sono già bravissimo no non sopravvalutatevi anche se ci viene istintivo ma aspettate di avere sufficienti risultati non abbiate fretta e come si fa a valutare i propri risultati ovviamente serve quello che si chiama trading journal il diario di trading che andremo a vedere nel dettaglio in una delle prossime puntate anche ogni trading system esattamente come noi stessi deve essere sottoposto ad un periodo di test per misurarne l'efficienza e per decidere se reclutarlo oppure no questa parte sul trading system è il cuore di questa stagione della stagione numero 2 e sarà argomento della prossima puntata che secondo me durerà veramente tanto ma sarà un vero e proprio corso da sola perché vedremo come nasce un trading system come reclutarlo come definire se funziona oppure no e come modificarlo nel tempo quindi una volta che avremo chiare queste cose potremo davvero iniziare ad operare sul serio con consapevolezza ragazzi io vi ringrazio di nuovo per l'attenzione vi aspetto se si riesce sempre mercoledì prossimo spero di sì il tempo dovrei trovarlo e nel frattempo visto che tutti i miei contenuti sono gratuiti non vi chiedo nulla se volete partecipare diciamo così contribuire alla crescita della nostra community potete utilizzare i miei referral link agli exchange come Bybit o Bitmex oppure acquistare un ledger se volete fare un piano di accumulo e holdare e non cimentarvi nel trading potete seguirmi sul canale telegram dove pubblico quotidianamente pillole di mercato quello che mi passa per la mente insomma e sentitevi liberi di condividere con chi volete questi video e queste slide l'importante è che citiate il fatto che le ho fatte io tutto qua vi auguro una buona serata e ci vediamo alla puntata numero 3 che mi raccomando preparatevi bene con la tazza di caffè perché sarà bella bella corposa sui trading system di nuovo un saluto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.